Buongiorno a tutti, ormai siamo arrivati alla prima settimana a dicembre estivo e abbiamo ancora tante cose che hanno toccato. Quell'avvento siamo divertiti molto al parco con i giochi d'acqua. Uno dei giochi più belli è stata la caccia di nocce, un altro gioco così divertente è stato il marco di acce con gli spuzzini. Nel pomeriggio abbiamo anche costruito dei bellissimi bastoni della pioggia. Guardate un po'. Mercoledì siamo andati in piscina, però il piede era rotto e purtroppo siamo stati all'interno, però ci sono negativi lo stesso. Data l'avvento incessante, nel pomeriggio abbiamo visto un film tutti insieme, talma tutta, divertentissima. Questa settimana è arrivato il centro estivo anche una maestra sabbia, sentiamo un po' le sue prime espressioni. Diamo la rima in un viaggio. Come ti trovi al centro estivo? Molto bene. Ti diverti? Parecchio. Questa è la tua prima settimana? Yes. Questa settimana ti sei trovata bene? Molto bene. Quali sono le tue impressioni sul CRD? Siamo tutti matti. Cosa farai dopo il CRD? Vacanze. I bambini dimmi come ti sono sembrati. Matti. Ci arrabbi spesso con i bambini? No, se rispettano le regole no. Ringraziamo la maestra Sabrina e diamo la linea allo studio. Per fortuna di me ne è tornata al sole. Malato il forte vento, abbiamo finito le costruite dei comandati Simon Filippi. Viva! Vi ricordo anche di una grandissima casa in giro. Abbiamo fatto una bellissima cabinata sopra in giro. E' tornato con noi il signor Giuseppe, la guida del CAI che ci ha spiegato tante cose. Buona domenica! Vi lasciamo con una sorpresa da noi. E poi, lo sai, non c'è un posto. meglio di cui si fa tante cose divertenti e coinvolgenti ogni giorno e tante viverlo e gli altri condividerlo. Il CRD è un bel posto e ancora un'altra estate arriverà e dopo la scuola il CRD inizierà. E hai il tuffo in piscina il mercoledì mattina. La voglia di giocare tanto non ci passerà.